Il bilancio della nati mortalità delle imprese stilato dalla Camera di Commercio delinea uno scenario in chiaro scuro per quanto riguarda la provincia di Pistoia. Tiene il comparto agricolo e rimangono stazionari i settori del turismo, dell'alloggio e della ristorazione. Si rafforza la crescita delle costruzioni e dopo la flessione 2020 recupera terreno anche il comparto del commercio. È stabile il comparto manifatturiero ma con differenze molto pronunciate tra i diversi settori al suo interno. Alla variazione positiva nella meccanica ed elettronica dell'industria del legno e del mobile si contrappongono infatti le flessioni dell'alimentare, del comparto moda, dell'industria della carta e del settore della chimica, farmaceutica, plastica e gomma. Crescono infine i servizi. In provincia di Pistoia in definitiva il saldo tra imprese iscritte è cessato e positivo ed è pari a 379 unità.